che è abbastanza fasciante, porto un intimo modellante. Non me ne sono accorta neanche io Silvia, perché non l'hai tirato su. Eccolo qua, quindi un po' due alternative. Questo è il pantaloncino Vita, quindi non perdetelo perché fuori costa di più e non avete 45 giorni di prova, che è una bella tranquillità di dire ma vediamo se funziona. Eccolo, questo invece che sta piacendo al girovita e girofianchi è stato in linea, siete in più di 100 ma questi sono in meno, non li vedremo più e stanno finendo. Io vi invito a rimanere lì tra un minutino, mentre ringrazio Veronica per averci portato questa favola che io ho sponsorizzato a tutte le mie amiche. Grazie Silvia.